Grazie ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina ed eccoci qui in diretta anche per questo mercoledì. Nel video di oggi parleremo, così come anticipato dalla copertina, questa è la copertina, delle icone dei siti internet posizionate sul desktop, come gestirle, come personalizzarle al meglio. È un quesito che ho già posto agli amici abbonati in questo video qua e quindi ci hanno ragionato sopra, mi hanno inviato le loro soluzioni, lo scopo di questo quesito era vedere un attimo di ragionare sulle cose del computer, quindi imparare da soli qualcosa di nuovo, ma anche vedere se c'erano soluzioni diverse a quelle che avevo trovato io. Pare di no e quindi oggi le mostriamo a tutti e vediamo com'è. Bene, il quesito che mi fate sempre, spesso, è questo. Allora, torno sul mio desktop. Eccolo qua. Sui nostri desktop spesso ci sono un sacco di collegamenti a siti internet. Oggi ho voluto esagerare e metterne tanti proprio per esagerare la cosa e per far vedere quello che ci interessa. Intanto ringrazio Enzo. Ciao Enzo. Grazie, grazie infinite per l'uso della Super Chat che per noi è un sostegno importantissimo. Grazie, grazie. Allora, quindi noi usiamo il nostro computer. Ci mettiamo dei collegamenti sul desktop perché ci sono dei siti internet che visito spesso. Lo prendo, lo metto lì. Lo prendo, lo metto lì. Lo prendo, lo metto lì. Ci sono chiaramente altri modi di fare questa cosa, nel senso usare i preferiti, eccetera, ma alla fine mi sono accorto, vedendo i vostri computer ai corsi, vedendo i vostri computer in conferenza, quando condividiamo tutto quanto, che la cosa preferita è quella di avere il collegamento sul desktop del computer. Però, quando io scarico un collegamento, quando prendo un collegamento da internet e lo metto sul desktop del mio computer, sono tutti quanti uguali. In questo caso sono tutti quelli di Google Chrome e quindi non si riesce a distinguere l'uno dall'altro. In questo caso sono anche tutti quanti uguali del sito Maggiolina perché per farmi tanti non avevo voglia di andare su mille siti e posizionarli lì e ho usato il copia e incolla. Ma vengono comunque tutti quanti uguali con la stessa icona, ad eccezione di questo, Associazione Maggiolina e Amici di Maggiolina. Questi collegamenti sono fatti in modo diverso e otteniamo un risultato diverso. Non è male, adesso io l'ho fatto solo col sito Maggiolina o Amici di Maggiolina perché sono i nostri siti, ma vale per tutto internet. Quindi vale anche su siti internet diversi dai nostri. Allora sì, bravo Edo che mi ricordi di fare la domanda di confine, la riga di confine per le domande, grazie. Eccola qua. E quindi ragioniamo su questa cosa. Vorrei fare anche tutto un giro lungo per questo discorso delle icone per parlarne un attimo, ma andiamo subito allo scopo finale, quindi vediamo come mettere queste icone prima di tutto. Poi magari facciamo un giro lungo e ci ragioniamo un attimo. Allora, cancello tutto, ok? Cancello tutto, li ho selezionati tutti, premo Cance, vanno tutti quanti nel cestino, cestino che svuoto, ed ecco fatto. Partiamo da zero. Allora, prendo un browser, eccolo qua, il mio aperto Google Chrome, e ottengo questo risultato. Allora, vado sul sito Maggiolina, www.associazionemaggiolina.it Non ho bisogno di scriverlo tutto perché il mio browser se ne accorge, se lo ricorda, e arrivo qua. Sito Maggiolina è un mio preferito. Voglio il collegamento, perché è un collegamento l'icona, voglio il collegamento sul desktop. Ce lo metto per trascinamento, quindi rimpicciolisco la pagina internet, il browser internet, clicco qui una volta, l'indirizzo diventa blu, torno qui dopo aver lasciato il mouse, premo, tengo premuto, trascino, l'icona è giusta, però quando mi metto qui vedo che esce l'icona del browser Google Chrome. Perché esce questa icona? Perché Google Chrome al momento è il mio browser predefinito nel mio computer. E quindi questa icona è associata al browser. Questa icona ha un nome specifico, vediamo se riusciamo a vederlo così capiamo meglio il discorso. Proprietà, ho fatto tasto destro proprietà, no, da questa parte da qui non lo vediamo. Comunque, questa icona è quella specifica del browser. Va bene, facciamo un'altra prova. Apro questa volta Microsoft Edge. Benissimo, vado sul sito Amici di Maggiolina, ce l'ho già pronto, va bene, rimpicciolisco come prima e faccio lo stesso lavoro. Premo, lascio, torno qui, trascino ed eccolo qui. Allora, otteniamo con due browser diversi lo stesso risultato, quindi il collegamento che mi porta al sito. Però anche questo Amici di Maggiolina ha l'icona di Google Chrome. Sempre perché Google Chrome è il browser, quindi il visualizzatore di siti internet predefinito nel mio computer. Chiudo. Quindi, se io adesso premo Amici di Maggiolina, anche se questa icona l'ho creata con Edge, mi verrà aperto Google Chrome. Ci clicco due volte, si è aperto sull'altro schermo. Eccolo qua. Aspettate che ho fatto anche un pasticcio con la diretta. Ecco, no, vedo tutto. Perfetto, mi era sparita la chat. E quindi ci siamo? Proprio perché il computer ha bisogno di impostare un unico programma come predefinito per aprire una determinata cosa. Volevo fare un giro più corto, ma in realtà ci serve scoprire questa cosa. Quindi Google Chrome è il mio browser predefinito. Se io cambiassi browser predefinito, quindi se vado qui nel campo di ricerca di Windows e scrivo predefinito, vediamo, predefinito, eccolo qua, app predefinite, vedo che alcune applicazioni sono quelle predefinite per fare determinate cose. Tipo, per navigare in internet abbiamo il browser web Google Chrome. Se premo e scelgo Edge, ad esempio, quando esco fuori, queste due icone ora sono di Edge. Sono la stessa identica cosa, ma sono di Edge. Quindi se premo qui per Amici di Maggiolina, questa volta si apre il browser Microsoft Edge e il sito Amici di Maggiolina. Ci siamo quindi. Le icone, in genere, in tutto il computer, salvo impostazioni differenti, sono gestite e sono visualizzate in funzione della app predefinita. Stesso discorso. Intanto mettiamo a posto quella lì, quindi vado in nuovo in impostazioni qui alle mie spalle e a me piace Chrome, quindi imposto Chrome. Fatto. E qui ci siamo. Lo stesso discorso vale anche per i vari file. Facciamo anche questo esempio qui, così abbiamo fatto tutto il giro lungo e ci siamo resi conto bene di questa cosa. Questa è una cosa che fa Windows, ovviamente. Allora, io in da cancellare, sono andato in Explora File, in da cancellare qui ho un sacco di cose. Questo, vediamo questo file qua, questo si vede, vediamo dietro le mie spalle, facciamo un po' di pulizia, così magari risulta più facile. Cancello, poi cancello, devo cancellare cose ma tenere quelle giuste. Vabbè, e cancello. Allora, questo file qui. Questo è un file di solo testo e gli amici abbonati vedranno presto che cosa ci ho fatto con questo file, ho registrato il video oggi. Comunque questo è un file di solo testo. Clicco due volte, si apre il blocco note, che è l'applicazione specifica per aprire i file di solo testo e c'è dentro questa roba qui. E qui ne parleremo in seguito. Ok, chiudo. Questa è l'icona del file di solo testo. Se io cambio l'applicazione predefinita di utilizzo di questo file e ne metto un'altra, cambia anche l'icona. Proviamo. Questa volta devo fare un giro diverso, perché questo non è il browser internet. Questo è un file normale, non è un collegamento a un sito internet, ma è un file qualsiasi, un file di testo, e quindi per associarvi un'altra applicazione per utilizzarlo si fa in un altro modo. tasto destro, apri con, e dico, anziché il blocco note, word. Ed eccolo qua, l'ho aperto, però non ho fatto tutto giusto. Allora, rifacciamo. Tasto destro, apri con, scegli un'altra applicazione, scelgo word, e fisso, dicendo, usa sempre questa app per aprire i file txt. Fisso questa applicazione come la preferita per aprire questi file. Dico ok, il file si apre, quindi ho word, ho lo stesso contenuto mostrato in un programma diverso, ma quando chiudo word, ed è quello che mi interessa a me adesso, dovrebbe cambiare questa icona. Perché non l'ho fatto? Vediamo se aggiorno la pagina. Non è cambiata l'icona. Solitamente cambia l'icona, non so se sia una situazione particolare adesso o meno, ma in genere l'icona viene cambiata in funzione del programma che uso. Allora proviamo a fare in un altro modo. Dunque, questo rimetto a posto, apri con, scegli un'altra app, blocco note, usa sempre questa app e dico ok, a posto. Andiamo in documenti, volevo vederla questa cosa, a meno che non sia cambiata adesso. Allora, documenti. Questo è un documento di Word, Candy è il mostro. Cambiamo programma di utilizzo, questo è proprio Word. Tasto destro, apri con, vediamo apri con, scegli un'altra app, scelgo LibreOffice, usa sempre questa app. Dico ok, ed ecco che adesso ha funzionato. Si apre LibreOffice, ci mostrerà Candy è il mostro. Arriva, impiega un po' perché si vede, è tanto che non apro Candy è il mostro e che non apro LibreOffice. Eccolo qua. Quindi, avendo associato un'app diversa per l'utilizzo di questi file, sono cambiate le icone che li rappresentano. Quindi, è la stessa cosa che avviene per le icone sul desktop per quanto riguarda il browser internet. La rimetto a posto perché così abbiamo tutto a posto. Apri con, scegli un'altra app. Non è che c'è un giusto e sbagliato. Io preferisco aprire questo tipo di file con Word e quindi lo metto a posto così, ecco che sono a posto. Perfetto, icone a posto. Quindi, questo era tutto il discorso. Poi, abbiamo visto in passato che ha un'icona, che, diciamo che ha un'icona, io posso cambiare il simbolo, quindi posso interagire con essa e gestirla diversamente. Ma le icone del sito internet, dei siti internet, sono particolari. Io voglio sfuggire a questa logica dell'app predefinita. Voglio che l'Associazione Culturale Maggiolina abbia la coccinella rossa. La Maggiolina rossa, ma è una coccinella. E l'altro voglio che abbia la coccinella verde. D'accordo? E così via per tutti i siti. I siti internet che hanno una loro immagine rappresentativa, vorrei vederli qui con quell'immagine rappresentativa. Perché così non devo leggere quello che c'è scritto sotto. Già l'immagine colpisce la mia attenzione e scelgo subito l'icona giusta. Facciamolo. Allora, cancello questi due perché non ci servono più. Noi abbiamo visto che con Google Chrome ottengo l'icona di Google Chrome. Con Microsoft Edge ottengo comunque l'icona di Google Chrome. Proviamo anche con Firefox, visto che siamo qui. Firefox, altro browser. Si è aperto sempre sull'altra schermata. Eccomi qua. www.associazionemaggiolina Quando dicevo vorrei l'icona del sito. Qui, questa si chiama Favicon. Non so come si pronunci l'accento. Favicon comunque si scrive. Questa è l'iconcina che tu, che crei il sito internet, assegni al tuo sito in modo che appaia in questa posizione. Questa iconcina io la vorrei anche nella mia pagina sul mio desktop, come icona del mio desktop. Va bene, allora prendo questo, clicco, lascio andare, trascino il collegamento, ed eccolo qua. Allora, notiamo subito che Firefox, innanzitutto, ha fatto qualcosa di diverso rispetto a Chrome e rispetto ad Edge. Gli altri due mettevano l'icona standard del browser. Questa invece ha messo questa iconcina che ha dentro la Favicon, ha dentro la maggiolina che noi abbiamo inserito qui. Sono curioso di vedere cosa succede quando io clicco due volte per aprirlo. Premo due volte e si apre Google Chrome, come è giusto che sia, dato che Chrome è il mio browser predefinito, e quindi questo è Google Chrome. quindi Firefox fa qualcosa di diverso e mi mette la sua iconcina, che però è piccola. Sarebbe meglio cambiare sistema e avere qualcosa di diverso. Nel senso, sarebbe meglio averla differente. Grande, la maggiolina è grande. Allora, cestino. Svuotiamo il cestino. Sì, e loro se ne vanno. Vediamo se arriva che se ne vanno. Adesso andranno per conto loro, eccolo qua fatto. Intanto saluto e ringrazio Pina. Ciao Pina, grazie, grazie infinite per l'uso della super chat. Grazie, grazie. Allora, andiamo a fare definitivamente l'icona giusta. Quindi il procedimento per fare l'icona giusta è semplice. Ce ne sono due, che ci fanno ottenere due risultati diversi. Vediamoli. Allora, apro Google Chrome. Io lo apro qui alle mie spalle, poi dovrò spostarmi. Si è aperto sempre nell'altra schermata. Eccolo qua. Vado sul sito in questione, www.associazionemaggiolina.it Questa volta non prendo e trascino l'indirizzo internet, ma vado sui tre pallini, tre pallini, strumenti, altri strumenti, e poi vado a scegliere, dove è? Crea scorciatoia. Crea scorciatoia. Premo. Appare questa finestra, questa schermata, questa finestra, che mi chiede il nome di questa scorciatoia. Associazione Culturale Maggiolina, lo prende da solo, lo prende da qui, questa è l'icona, e la prende da qui sempre. È giusto? È giusto. Siamo a posto. Qui c'è scritto apri come finestra, vuol dire che se io accendo, se io faccio così, viene aperta una nuova finestra del browser, invece che magari una seconda scheda. ognuno è una scelta personale che fa. Io preferisco avere, se ho il browser già aperto, che mi apra una scheda, perché trovo che faccia meno confusione questa cosa, quindi lo lascio così. Dico Crea, ed ecco, sul mio desktop, finalmente, l'icona giusta, e quindi sito internet, collegamento al sito internet, ma con l'icona di quel sito, in questo caso la maggiolina, che si vede bene, bene in grande. Se vado sul sito amici, quindi all'interno di maggiolina, sto andando dentro al sito amici di maggiolina, entra ora, iconcina verde, tre pallini, vediamo un po', abbiamo detto altri strumenti, Crea scorciatoia, Crea, ed ecco qua, l'iconcina amici di maggiolina, verde, perfetta, bella, bella grande, icona ufficiale, quindi un bel lavoro fattore. è fatto bene. Voglio provare ad andare sul sito abbonati, allora vado sulla pagina degli abbonati, pagina degli abbonati, che ha un'iconcina diversa, l'iconcina numero uno fan, vediamo come viene quella, tre pallini, altri strumenti, Crea scorciatoia, Crea, ed eccola qua, numero uno fan, viene questa con la trasparenza perfetta, in questo caso con l'azzurro sotto, non si vede tanto bene, ma è lei, ufficiale a tutti gli effetti. Perfetto, mi piace questa cosa, funziona bene. Dicevo due modi, ce n'è un altro, per farvi vedere quello, mi devo prima spostare, perché, ora, metteremo, le icone, sulla barra delle applicazioni, lo faccio, allora, vado a prendermi, e spostarmi, eccomi qua, che mi sposto, ci vuole un attimo di tempo, perché devo spostarmi piano piano, per liberare un po' di spazio, sulla barra delle applicazioni, eccola qua. Allora, beh, va da sé che io posso prendere l'icona, e, rascinarla, sulla barra delle applicazioni, eccola lì, l'iconcina numero uno fan, qui, e se premo, ora si apre il browser, con questa icona qui, ok? Vedo, al volo, Veronica, che mi dice, io ho Firefox, c'è questo comando? No, su Firefox, questo comando, io non l'ho trovato, quindi, si può usare qualcosa d'altro, si può usare Chrome, o si può usare Edge, ricordiamoci che, anche se siamo abituati, a usare una cosa, possiamo anche, togliere la nostra abitudine, per un attimo, e, creare l'icona, e poi tornare, alla nostra abitudine, ok, quindi questa è una cosa, questa è la tiro via, tasto destro, rimuovi, dalla barra delle applicazioni, e se ne va, queste tre qui, le butto via, mi dispiace, perché sono belle, le butto via, nel cestino, e adesso, proviamo con Edge, con Firefox, grazie a Veronica, che mi ha chiesto, abbiamo detto, che non si può fare, non sono riuscito, è sempre strano dire, non si può fare, perché, magari poi c'è un comando diverso, e si faceva in un altro modo, e non lo sapevo, però con Edge, si può fare qualcosa d'altro, vado su Edge, quindi Microsoft Edge, www.associazionemaggiolina.it, stesso viaggio, stesso giro, tre pallini, altri strumenti, vediamo come li chiama qua, dove li trovo, altri strumenti, sono dietro le mie, ah no, mi sono spostato, quindi è giusto, tre pallini, altri strumenti, e qui c'è, sto guardando per vedere se si vede, aggiungi alla barra delle applicazioni, qui non c'è crea collegamento, questo è un browser diverso, e quindi ognuno nel suo browser fa quello che vuole, quelle persone, i programmatori di Microsoft, hanno messo il comando, aggiungi alla barra delle applicazioni, premo, e qui esce lo stesso comando, quindi è la stessa identica cosa, di Google Chrome, aggiungi alla barra delle applicazioni, associazione culturale Maggiolina, aggiungi, solo che il risultato finale, non è un'icona sul desktop, ma è un'icona sulla barra delle applicazioni, qua sotto, vediamo se si vede, sì, sto guardando la mia anteprima, che è parimenti bella, trovo che sia bella, perché anche in questo caso, viene usata bene l'icona ufficiale del sito, con la trasparenza, quindi col bordo, e circolare, perfetta, bella, e ci siamo, questo era il discorso, per gli amici, che amano, avere un'icona pronta, di un sito internet, qualsiasi, purché il sito abbia, questa iconcina qui, la favicon, per chi crea i siti internet, ha la possibilità di metterla, e ormai tutti quanti la vogliono mettere, perché effettivamente è carina, e quindi si fa così, qui, poi premo, per toglierla, e di nuovo, rimuovi dalla barra delle applicazioni, se invece ci premo sopra, ovviamente si apre il sito, se io apro il sito, si apre, il browser Edge, in questo caso, ha aperto Edge, non è il predefinito, perché evidentemente, qui, Windows, riesce a distinguere, che questa icona è stata creata, con Edge, e da qui, riesce ad aprire, questa di Edge, e quindi, ci adeguiamo a questo, ok, vado a toglierla, tasto destro, rimuovi dalla barra delle applicazioni, e siamo tornati normali, quindi io, il mio, il mio Chrome, vado ad aprirlo, così rimettiamo il sito, amici di Maggiolina, allora, faccio le iconcine, comunque, quindi, www.associazione Maggiolina, abbiamo detto, altri strumenti, Crea Scorciatoia, una, che effettivamente mi piacciono, eccola qua, amici, entra ora, tre pallini, altri strumenti, Crea Scorciatoia, amici, e la metto qua, e gli abbonati, gli abbonati, devo andare, posso andare anche qui, dal sito Maggiolina, abbiamo la pagina abbonati, Spazio Abbonati, Accedi a Spazio Abbonati, vediamo, sì, tre pallini, altri strumenti, e, Crea Scorciatoia, Perfetto, e questi sono, queste sono, le nostre tre icone, che abbiamo a disposizione, bene, ragazzi, vediamo un po', quali domande, mi avete fatto, cosa, cosa vi, cosa vi ha interessato, particolarmente, quindi, torno, a dare un'occhiata, alla chat, vediamo cosa succede, andiamo a cercare, la riga di prima, prima ci sono un po' di saluti, prima di questa riga, allora, Live Oscar dice, io preferisco mettere, tutti i siti nei preferiti, per lasciare lo schermo pulito, ho solo il cestino, e sono d'accordissimo con te, quindi, siti nei preferiti qua sotto, io poi esagero, ne ho da tutte le parti, e poi, neanche mi interessano, ad esempio, questi qui, non mi interessano neanche più, e quindi, poi, non li cancello più di tanto, però, i preferiti, hanno il loro senso, in quella posizione lì, oppure, alla fine uso tanto, la barra delle applicazioni qui sotto, i programmi che uso più spesso, alla fine sono qua sotto, sulla barra delle applicazioni, però, tantissime persone amano il desktop, quindi l'icona sul desktop, e abbiamo visto, che adesso possono distinguere, un'icona dall'altra, Pasquale, ciao Pasquale, ti sei abbonato oggi, e ha perlomeno visto oggi, la tua maggiolina, quindi, grazie, grazie di essere con noi, ringrazio, GMD, per l'uso della Super Chat, grazie, grazie infinite, Super Sticker in realtà, e che per noi, è un sostegno importantissimo, grazie. Allora, poi, Jacqueline, dice, ciao Daniele a tutti, in ascolto, ciao Jacqueline, ciao Nicola, buonasera a te, Elvira, Elvira dice, Daniele, ho, formatato il portatile, e sul desktop, mi compare, una cartella utente, che ha preso il mio nome, quando ho creato l'account locale, mi chiedevo, la posso eliminare, non, non, e, collegamento, non è un collegamento, allora, intanto, sarà un Windows 7, sempre specificare, quando fate le cose, di che Windows è, perché altrimenti, non ci rendiamo conto, di cosa facciamo, molto probabilmente, è un Windows 7, lì vanno a finire, tutte le tue cose, dovrebbe comunque, essere un collegamento, anche se non ha, la freccina del collegamento, perché è un'icona di sistema, dovrebbe comunque, essere un collegamento, e dovresti trovarla, trovarla anche dentro, direi che puoi eliminarla, se è Windows 7, però, non ti so dire, senza vedere, e capire bene la specifica, allora, ringrazio Letizia, ciao Letizia, grazie infinite, per l'uso della Super Chat, grazie, grazie. Mauro, ci dice, con i preferiti, c'è meno confusione, e ogni sito, ha la sua icona, ed oltretutto, senza fare tanti giri, è più semplice salvarli, sì, cioè, ci sta, è una preferenza di ognuno, non è che, ne ci siano tanti giri, neanche nell'altro modo, ognuno si gestisce, si gestisce come vuole, allora, e il desktop rimane pulito, sul desktop, desktop pulito, sono d'accordo, Dario mi dice, buongiorno a tutti, molto interessante, la lezione, bravo, grazie, grazie dei complimenti, grazie per aver messo il mi piace, Dario, grazie infinite, per noi sono molto importanti, i mi piace, grazie. Allora, Veronica, abbiamo già risposto a Veronica, con l'uso di Firefox, vedo, un nuovo, una nuova Super Chat, grazie Ennio, grazie, grazie infinite, Ennio, per l'uso della Super Chat, l'ho detto bene, sì, e anche Jacqueline, che mi era sfuggito, grazie infinite Jacqueline, per l'uso del Super Sticker, nel tuo caso, grazie mille. Allora, torniamo alle domande, vediamo dove erano arrivati, allora, Veronica, abbiamo già risposto, saluto Katie, vediamo cos'altro si dice, Vilte, mi dice, buonasera Daniele e tutti, cellulare nuovo, Samsung A40 Android, è impostata, icona, call recorder, però, non funziona, posso mettere, nuova app, e quale consiglia, grazie, allora, Vilte, bravo, che hai segnato, marca e modello del cellulare, Android e tutto quanto, il call recorder, che sia già impostato, non lo so, se è già di serie, se è impostato già dentro in Samsung, non mi risulta, però, potrebbe essere, se è suo, cioè, se fa parte di Samsung, è il modo migliore per farlo funzionare, nel senso che, guardaci, guarda le impostazioni, eccetera, perché se, se l'applicazione di registrazione chiamate, è nativa, nel telefono, come c'è, nei Mi, e negli Asus, ad esempio, è fantastica, funziona alla perfezione, perché è nata insieme al telefono, se ne aggiungi una successivamente, spesso non funzionano, perché, ormai, queste app qui, con i nuovi sistemi operativi, più si va in su con Android, sono sempre più messe da parte, come funzionamento, per tutte le regole della privacy che ci sono, e quindi, non sempre funziona, anche lì, nel caso, devi guardare sulle impostazioni. Io, registrare le telefonate, utilizzavo questa applicazione, allora, registrare, registrare le telefonate, avevo suggerito questa applicazione, che è molto datata, registra le chiamate, il numero 83, e funzionava, sui telefoni di allora, non su tutti, su qualcuno sì, su qualcuno no, su qualcuno registrava solo, solo me, e non l'altro interlocutore, e a me bastava, perché io ripetevo, data e ora dell'appuntamento, così ero a posto, però, ogni telefono ha ragione, in modo diverso, se invece, l'applicazione è nativa, del telefono, ci sono appunto, telefoni che hanno questa applicazione nativa, funziona alla perfezione, ed è una grande comodità, più di questo, non so dirti, per risolvere la situazione, altre app, non ne conosco, però non è detto che, che non ci siano, edo, dalla barra delle applicazioni, si può trascinare nel desktop, con Edge, sì, dalla barra delle applicazioni, si può trascinare col desktop, non lo so, a questo punto, con Edge, non c'entra più Edge o non Edge, cioè, dalla barra delle applicazioni, posso premere, trascinare nel desktop, parrebbe di no, in questo caso, e invece, intendi, dalla barra sopra, sì, l'abbiamo fatto all'inizio, quindi, il sito, qui, prendo, dalla barra degli indirizzi, e arriva, in questo caso, era già il sito di Google, per cui, c'è già l'iconcina, che sembra giusta, in realtà, è comunque quella del browser, predefinito, quindi, questa, la buttiamo via, e vuotiamo il cestino, vuota il cestino, sì, poi, Gianni, per, per l'asseo, e l'identità del sito, è sempre utile, mettere una favicon, vedo che non c'è il punto di domanda, quindi, è un'affermazione, sì, certo, è sempre utile, intende, per la, la seo, e sta per essere, portati, in più in su, possibile, nei motori di ricerca, quando noi, in un browser, scriviamo, quindi, in un motore di ricerca, qualsiasi, scriviamo il nome, di un determinato sito, qui, lui ci fornisce, un certo numero di risposte, se, la nostro, se il nostro sito, è in alto, vuol dire, che è ottimizzato bene, e quindi, vuol dire, che otterrà anche, delle, delle visualizzazioni, delle visite, se invece, il nostro sito, è in centesima pagina, e c'è, ma, l'utente, che cerca una determinata cosa, guarda, cento pagine prima, ha trovato, quella, quella cosa lì, molto prima di noi, tipo, se io cercassi una caldaia, devo cambiare la caldaia, scrivo caldaia, è chiaro, che i primi due, tre siti, che mi vengono fuori, sono quelli che, e poi clicco, per vedere, le caldaie che ci sono, quindi, magari, anche, chi vende una caldaia eccezionale, a un prezzo eccezionale, però, è in centesima pagina, non lo vedo, perché, mi stanco, non è che li guardo tutti, mi vengono fuori, qualche milione di risultati, quindi, ottimizzare il sito, e quindi, lavorare sul SEO, è una sigla, questa cosa del SEO, ci porta, a far sì, che il nostro sito, quando viene, cercato, una determinata parola, nel motore di ricerca, il nostro sito sia più in su, più in su si va, e meglio è, perché, altrimenti, diversamente, per essere su, devo pagare, però, pagare, comporta, che quando smetto di pagare, non sono più su, e quindi, meglio, se il sito viene trovato facilmente, nei motori di ricerca, senza che io debba pagare, per forza qualcosa, allora, poi, Vita Taormina, ciao, Vita Taormina, buonasera a te, vediamo cos'altro si dice, Uzeddu, ho capito, per avere una risposta, esaustiva, dovrò rivolgermi, ok, sta parlando, dell'impronta digitale, mi sembra, se era quello dell'impronta digitale, Uzeddu mi dicevi, ma a volte, ho problemi con un dito, per l'impronta digitale, usano un altro, cioè, non è che, se quei problemi con quel dito, ce li hai, non è che possiamo risolverli, farli risolvere al telefono, c'è comunque un PIN, quindi, tornando all'impronta digitale, quando memorizzo l'impronta digitale, per sbloccare il mio telefono, non ne memorizzo una sola, ne memorizzo anche due, perché magari, prendo in mano il telefono, con una mano, e sblocco l'impronta, prendo in mano il telefono, con un altro, e sblocco con un'altra impronta, perché questa mano, adesso non è lì, quindi, si memorizza più di un'impronta, in modo che, almeno un dito ci sia, che funziona, d'accordo, se ce l'hai davanti, io quando avevo quello davanti, avevo il pollice di una mano, il pollice di un'altra mano, un indice, per, in modo così come prendevo in mano il telefono, c'era sempre un dito, abituale, che andava a premere, se l'impronta non funziona, perché hai le mani bagnate, perché, o come dici tu, insomma, c'è problema su qualche dito, non succede niente, il pin ti sblocca sempre, perché l'impronta, lo sblocco facciale, quindi lo sblocco dello schermo del telefono, diciamo, con la nostra immagine, sono impostabili, solo dopo, aver inserito un pin, quindi, si mette il pin, poi si mette tutto quello che si vuole, se l'impronta, in quel momento non funziona, hai le mani impolverate, eccetera, perché succede, niente, usi il pin, e con quello fai, allora, poi, Alberto, scusa Daniele, sono abbonato, no no, l'icona degli abbonati, beh, Alberto, l'icona c'è, la maggiolina azzurra, mi sembra, vedendo da qua, quindi, ci sei a tutti gli effetti, se sei loggato, a qualcuno a volte mi chiede, non vedo i video per gli abbonati, attenzione, qui, dovete essere loggati, dovete essere riconosciuti, da Google, e da YouTube, quando siete su YouTube, con lo stesso account, che si è abbonato, perché se non siete loggati, quindi, computer non vi, YouTube, Google non vi riconosce, o se vi riconosce con un nome diverso, perché magari ne avete un paio, o perché l'avete cambiato, l'abbonamento è nominativo, su quell'account, quindi, in quel caso, non venite riconosciuti, però Alberto, dalla chat, vedendo la maggiolina, vuol dire che sei, che sei riconosciuto, sei a posto, allora, Veronica dice, io ho la maggiolina verde, la maggiolina, dell'abbonamento, cambia in funzione, del, del, quanto tempo, da quanto tempo, sono abbonato, ci sono i vari, i vari colori, al momento, mi sembra che sia l'azzurra, l'ultima, col passare del tempo, vedremo che cambierà, anche, anche, l'azzurro diventerà, in un altro modo, Luca, ciao Daniele, come si fa, su Firefox, chiede, su Firefox, non si può, perlomeno io, non lo so, come farlo, non c'è questo comando, altri strumenti, non l'ho trovato, per cui, niente, si fa con Chrome, al volo, e poi dopo, si torna a usare Firefox, se si preferisce, quando l'icona c'è, comunque, il computer, dovrebbe utilizzare, lo stesso programma, facciamolo, vediamo, allora, io ho l'icona, questa icona, l'ho fatta con Chrome, ora vado in app predefinite, allora app predefinite, e cambio browser, quindi vado a mettere, anziché Chrome, vado a mettere Firefox, perfetto, rimpicciolisco, ora ho Firefox, apro associazione culturale maggiolina, e vediamo se è aperto Firefox, come faccio a riconoscerlo, vado da qui, impostazioni, vediamo le impostazioni, non mi pare Firefox questo, come posso riconoscere questo programma, di solito c'è, guida, vediamo, informazioni su Google Chrome, no, mi ha aperto Chrome, in questo caso, quindi, l'icona creata appositamente, da Chrome, così come l'icona, che abbiamo posizionato qui, creata appositamente da Edge, è un'icona specifica, che apre anche quello specifico programma, quindi con Firefox, non funziona, devo dire con Firefox, però, che mi è capitato questo, allora, butto via queste icone di nuovo, queste le butto nel cestino, apro Firefox, associazione maggiolina, www.associazione maggiolina, allora questo, e ora trascino, mi fa questa icona qui, va bene, vado su Amici, allora, ci vado da qui, da Amici, la seconda icona invece, viene grande, quindi se io vado su Amici, entra ora, prendo questo, però forse solo a me, che sono l'autore di questo sito, quindi, questa viene giusta, vediamo quella degli abbonati, però ripeto, non so se capita così a tutti, per il semplice fatto, che essendo l'autore del sito, potrebbe essere che Firefox, fa un ragionamento diverso per me, vediamo, ecco, questa viene giusta, allora mi dico, vabbè, queste le ho create, questa la butto via, e ritorno sul sito maggiolina, no, devo tornare su questo, vediamo, e la tiro fuori, per vedere se la prossima è giusta, questa invece non risulta giusta, per cui, poi me lo direte voi in chat, magari, ma sono convinto che non, che faccia così, anche per gli altri due, quindi, usiamo Chrome, non succede niente, o usiamo Edge, torno a rimettere come predefinito Chrome, e dobbiamo abituarci, che le cose non sono tutte uguali, i telefoni non sono tutti uguali, i programmi non sono tutti uguali, quindi, qualcuno dice, no, a me piace talmente tanto Firefox, uso sempre Firefox, o a me piace iPhone, o mi piace Android, e sì, ognuno ha le sue peculiarità, quindi, ci sono cose che non è detto, che tutti facciano tutto, è normale, allora, poi, Nicola, ho messo sul desktop, sia questo PC, che accesso rapido, perfetto, Enza mi dice, ciao a tutti, no, ciao Dani, sto seguendo la tua lezione di Excel, brava Enza, Excel, è un programma che mi piace molto, e che è importante saper usare, uscirà un prossimo video, presto su Excel, quindi torniamo sull'Excel, quello normale, con i numeri che vanno avanti, perché approfondiamo alcuni argomenti, e il prossimo arriverà presto, Allora, Elvira dice, Windows 10, per quanto riguarda, l'icona, del nome dell'utente, non te lo so dire, Elvira, se lo puoi cancellare, oppure no, senza vederlo, non, non te lo so dire, se puoi togliere quell'icona, linea di massima potrebbe essere, ma potrebbe anche essere di no, quindi senza vederlo, non ti posso aiutare, allora Mauro, nella barra delle applicazioni, si può trascinare, dalla barra delle applicazioni, si può trascinare sul desktop, pare di no, Mauro, basta provare, ci si va sopra, si trascina, e apparentemente no, qui stavo guardando, qualche altra icona, e apparentemente no, poi dipenderà anche, da che cosa, da che cosa vogliamo trascinare, ma secondo me no, non ce n'è una che si trascina, quindi, vediamo, prova, non so cosa dire, se faccio tasto destro, vediamo, tasto destro, Google rimuovi, chiudi finestre, non c'è un, un modo, ma di solito, se la cosa è sulla barra delle applicazioni, vi è stata trascinata, da un originale, dall'altra parte, quindi bisogna fare un altro giro, allora, poi, e Enza, ciao Dani, ah beh, quello abbiamo già visto, Veronica, su Firefox, non c'è il comando strumenti, e infatti, ma magari si chiama in un altro modo, però non sono in grado di dirvelo, l'ho cercato ovviamente, senza, senza trovarlo, eh, poi, vediamo un po', Anto, io con, troppe icone, noto, rallentamento del sistema, quindi le tengo tutte, sulla barra dei preferiti, e ho solo il cestino e Chrome, ok, ci sta, un po' strano il rallentamento, ok, in un desktop pulito, comunque, è sempre una bella cosa, Enza, sto, terminando il corso di Excel, complimenti, veramente bravissimo, grazie Enza, mi fa piacere che tu abbia, abbia seguito Excel, allora, Giulia, ciao Daniele, quando io creo un collegamento con Chrome, nel secondo metodo, se metto la spunta, me lo apre come, se fosse un'app, quindi, con la stessa icona, nella barra in basso, con la stessa icona, nella barra in basso, e non come browser, allora, intanto ringrazio Donato, grazie Donato, per l'uso della Super Chat, grazie, grazie infinite, proviamo, ma non riesco a immaginarmi, il discorso, allora, non è detto che il mio computer, faccia la stessa cosa, www.associazione maggioline, tre pallini, altri strumenti, crea scorciatoia, apri come finestra, crea, eccola qua, non è un'app, è sempre una finestra, è sempre il browser, ti manca il menu, eccolo qui, alla larghezza giusta del sito, quindi non c'è il destra, il destra e sinistra, ma è sempre il browser, ti manca il menu, ma lo trovi probabilmente dentro qui, tre pallini, vediamo informazioni, copia, apri in Chrome, ah, c'è apri in Chrome, no, allora, è una finestra particolare così, beh, non è male come discorso, se premo questo, so zoom, provo F11, no, ma sì, lo vediamo diverso, quindi apri come finestra, è così, non si vede, non si vede il sito, l'indirizzo internet, simpatico, vediamo se vado in spazio abbonati, spazio abbonati, quello mi ha aperto una nuova finestra, e mi ha aperto una nuova finestra di Chrome, vabbè, ok, questo è il discorso, allora, con altra finestra, otteniamo questa cosa qui, io preferisco avere il browser, per avere un comando più, più completo, però a qualcuno potrebbe piacere anche così, allora, quindi grazie a, Piera, che ci ha aiutato, grazie a Giulia, che ci ha fatto notare questa differenza, e Alberto, vediamo, Alberto parla con Veronica, ciao Milan, Sergio, Daniele, come hai fatto ad aggiornare, lo smart ad Android 10, mi chiede Sergio, che recentemente il mio telefono, Redmi Note 7 della Mi, si è aggiornato a Android 10, semplicemente mi è arrivato l'aggiornamento di sistema, Sergio sulla mattina, mi ha detto, guarda che ci sono degli aggiornamenti disponibili, e aggiornamento ad Android 10, vuoi farlo oppure no, ovviamente mi faceva piacere passare ad Android 10, e ho detto di sì, è arrivato, probabilmente arriverà anche per il tuo modello, so che anche tu hai un Redmi, anche se è un modello superiore, sei sicuro di non avere già il 10? sì, che di solito sei abbastanza pratico, e comunque dovrebbe arrivare, si potrebbe forzare questa cosa, ma è sempre bene non farlo, finché restiamo all'interno dell'originalità, del sistema operativo del nostro cellulare, è sempre perfetto, puoi solo aspettare, oppure andare in impostazioni, aggiornamenti di sistema, a vedere se c'è qualcosa, Sergio. Ringrazio Icaro per l'uso della Super Chat, grazie, grazie infinite Icaro, Super Sticker in particolare, grazie. Allora, andiamo avanti, Vilt, mi dice, grazie Daniele, l'app è già impostata, come le altre app, pazienza, parlavamo del registrare il cellulare, queste cose, che mi dice Vilt, o qualcuno, dico, ma senza vedere, non riesco a sapere, possiamo magari parlarne meglio, approfondirle, parlarci a voce, in conferenza, sapete che il mercoledì sera, alle 21.30, dal sito Amici di Maggiolina, quindi da qui, andiamo a vederlo, adesso, www.associazionemaggiolina, dal sito Amici di Maggiolina, Amici, Entraora, e qui, Amici, in conferenza, eccolo qua, il mercoledì sera, alle 21.30, sono lì, ci vediamo in videoconferenza, facciamo due chiacchiere, se non ci sono domande particolari, se no, vediamo le varie cose, prima Romolo mi chiedeva di qualcosa, e questa sera approfondiamo il discorso, perché a volte, solo scrivendo, non riusciamo a capirci, a volte, una cosa che è così scritta, sembra insormontabile, poi quando vedi, dici, schiaccia lì, fai il tasto destro, eccetera, diventa molto semplice, a volte invece, non riusciamo neanche in conferenza, però, ci proviamo, allora, poi, vediamo, Veronica, a me arriva la notifica, dell'aggiornamento, sta parlando con Sergio, sicuramente, Edoardo, come si tolgono, le estensioni, su Chrome, Allora, io ho delle estensioni, non qui, vediamo, se ce l'ho in un'altra finestra, che posso andare ad aprire, questa, proviamo, allora, ce l'ho qui, queste sono le estensioni, ho due estensioni, qui, tasto destro, vediamo se mi fa qualcosa, che non mi ricordo, come si tolgono, questa, questa dice, rimuovi da Chrome, quindi, tasto destro, rimuovi da Chrome, e qui invece, ma questa, perché è un'altra estensione, ecco, qui c'è gestisci estensioni, quindi, quello che ci interessa, è gestisci estensioni, alla peggio, probabilmente, dentro qui, quindi, tre pallini, impostazioni, ci sarà, gestisci estensioni, provo qui a cercare, estensioni, vediamo, estensioni, non mi ha trovato nient'altro, ma sicuramente c'è, impostazioni di navigazione, ecco, c'era, c'era, qua sotto, estensioni, estensioni, si va qui, e qui, gestiamo le nostre estensioni, attiva, rimuovi, oppure la spegni, eccetera, quindi, così la spengo, spenta, così la accendo, ovviamente, e con rimuovi, la tolgo, a tutti gli effetti, ad esempio, io ho questa, dello speed test, è spenta, e la accendo, da qualche parte, arriverà, qui mi è uscita la notifica, poi probabilmente, quando chiudo e riapro, salterà fuori, adesso la tolgo, per non fare confusione, comunque da qui, quindi, pallini, impostazioni, estensioni, qua sotto, senza cercare tanto in giro, e poi si arriva lì, ok, allora, qua chiudiamo, andiamo a vedere, Valentina, ciao Valentina, ciao Matteo, grazie del complimento, Edoardo, adesso ha la sua risposta, anche lui, vediamo cosa dice Veronica, e intanto, beh, Veronica dice, io ho dovuto togliere, due app, me l'hai già scritto, in, Whatsapp, Veronica dice, ho dovuto togliere, due app, perché, non mi facevano funzionare, il wifi, ora che le ho tolte, funziona tutto, un po' strano, secondo me, che un'app, non faccia funzionare il Whatsapp, come ti ho scritto su Whatsapp, e funziona adesso, se quelle app non ti servivano, non è che starei a fasciarmi troppo la testa, quell'app non mi serve, ora il telefono funziona, siamo a posto, se quell'app invece, mi servisse per forza, allora, dovremmo, cercare di ragionarci, e in conferenza, possiamo dare un'occhiata, volendo, ma se no, va bene così, eh, allora, vediamo cos'altro, si dice, perfetto, grazie Michele, per la moderazione, della chat, grazie, grazie, Luca, con Internet Explorer, beh, Internet Explorer, Luca, non lo so, non lo uso neanche più, ma Internet Explorer è proprio passato passato, quindi, non so neanche se ce l'ho, vediamo se dovrebbe essere, Internet Explorer, eccolo qua, andiamo ad aprirlo, ecco, allora, www, associazionemaggiolina.it, eccolo qui, così, trascino, no, non mi fa neanche trascinare, uno, trascino, non mi fa trascinare, dall'icona posso trascinare, e ottengo questa cosa, chiudo tutto perché ha aperto un sacco di cose, ottengo questa icona qui un po' più grande, non è male, poi si è chiuso tutto, ma Internet Explorer, dimentichiamocelo, ormai è scomparso, nemmeno Windows lo supporta più, perché dice, andiamo con Edge, quindi non starei a complicarmi troppo la vita con quello, vuoto a cestino e via, però si può provare, allora, Annunzio, ci sei stasera in videoconferenza? Sì, 21.30, Annunzio, vediamo cosa dice Giuseppe, ciao Daniele, allora, PC da tavolo collegato alla stampante, mentre il portatile no, avendo un unico account, posso stampare con il portatile con Cloud Print? Sì, se fai tutte le impostazioni, corrette sì, sai che abbiamo fatto un video apposito, allora, vediamolo, sono andando nel sito, amici di Maggiolina, scrivere stampare, stampare, cerca video, allora, stampare, stampare, qui c'è seconda parte, prima parte, ce ne sono varie sulla stampa, vediamo se, lo troviamo, Cloud Print, stampare con lo smartphone, era questo, guarderei anche questo prima, poi ci sono gli altri dello stampare, ma guarderei prima questo, perché ci fa stampare con lo smartphone, ma anche come conseguenza, con eventuali altri computer, perché qui impostiamo, il Cloud Print, proprio per stampare da remoto, da altri dispositivi, allora, vedo Aldo, ciao Aldo, e grazie infinite per l'uso della Super Chat, grazie, grazie infinite Aldo, allora, poi, vediamo un po', Giuseppe, era una persona che mi diceva prima, la cosa di prima, Gianni, dalla barra, non si può spostare, solo rimuovere, ok, era quello che diceva, Gianni diceva, se posso tirare fuori le cose da lì, forse puoi spostarlo sulla barra, ecco qua, puoi spostare le cose, ma non le puoi tirare all'interno, poi, Scorpione dice, buonasera Daniele, come cambiare colore, solo alla barra delle applicazioni, allora, potrebbe essere che si possa, direi da qui, nei temi, proviamo, perché non sono, non sono sempre, non vado a vedere tanto queste cose qui, ma si può, tasto destro, direi, personalizza, questa è il nostro, la nostra situazione attuale, questa, allora, vediamo cosa posso cambiare, sfondo, immagine, scegli album, cambio ogni minuto, impostazioni di contrasto elevato, sincronizza le impostazioni, vediamoci, guardiamoci attorno, sfono colora, temi, barra delle applicazioni, vediamo, no, qui dà le varie, le varie impostazioni, personalizzare, personalizzazione delle barra delle applicazioni, no, qui andiamo da un'altra parte, che non mi interessa guardare adesso, vediamo un po', se c'era i colori, andrei a guardare temi, comunque da queste parti qua, certo, saperla giusta sarebbe meglio, vero? Allora, temi, sfondo, colore, suoni, cursore, guardiamoci attorno, impostazioni di contrasto elevato, sincronizza impostazioni dell'icona del desktop, vediamo col colore, scegli il tuo colore, blu, chiaro, scuro, effetto, trasparenza, poi magari in chat adesso qualcuno ti scrive la strada, perché a me non viene in mente, vediamo se faccio un tasto destro qua, impostazioni della barra delle applicazioni, arriviamo di nuovo qui, dove eravamo andati prima, sempre in prima, personalizzazione della barra delle applicazioni, però questo apriva Edge, come usare la barra delle applicazioni, aggiungere un'app, modificare le impostazioni della barra, cambiare il colore della barra delle applicazioni, impariamolo insieme, allora, per cambiare il colore della barra delle applicazioni, seleziona il pulsante Start, impostazioni, personalizzazione, colori, mostra il colore principale sulle superfici seguenti, seleziona Start, barra delle applicazioni, allora noi siamo già qui, colori, scegli il colore principale, questo, però cos'era, mostra il colore principale sulle superfici seguenti, eccolo qua, Start, e adesso, adesso dovrebbe essere blu, facciamo un arancio, eccolo qua, non perde il nero della trasparenza, perché da qualche parte, ci sarà, qui abbiamo cambiato tutti i colori, e questo, il colore è cambiato un pochino, non tanto, ma è lui, rimetto il mio blu, perché mi piace di più, e tolgo il blu, proviamolo, diamolo così, se premo qua, allora, vado a rimetterlo, se premo qua, eccolo qua, il blu è, diciamo, un po' velato, c'è sempre uno sfondo sotto, però, non male, solto il verde, verde, ci sta, non male, torno al mio, ma solo per questione di abitudine, e spengo, allora, torno al mio, e spengo questo, quindi, ricapitolando, tasto destro, personalizza, ci sono vari giri, colori, e qui, start, la barra delle applicazioni, e il centro notifiche, quindi premi qui, per mostrare il colore, e poi qui scegli il colore, allora, andiamo, andiamo avanti con la chat, che ore sono, abbiamo un pochino di tempo, Alberto, sei molto bravo, mi piace come spieghi, sei un buon insegnante, grazie infinite Alberto, grazie, Veronica, Daniele number one, grazie, Augusto, ciao Augusto, e grazie infinite, per l'uso del super sticker, grazie, grazie, allora, siamo quasi in fondo, alla chat, quindi, fermiamoci qua, rispondo alle ultime domande, ma non mandatene di nuovo, e facciamo una riga, così, ti fermiamo qua, con le domande, così posso rispondere fino qua, eccola qua, intanto Rosario è rientrato, anche lui nella riga, allora, Alberto, complimenti, Veronica, grazie ai complimenti, Aldo, ciao a tutti, arrivato, ciao Aldo, non ci mancherebbe, ecco ti qua, Luca, prego Luca, Bico, partizioni, partizioni a destra o sinistra, come comportarsi per modifica, grazie, allora, Bico, ne abbiamo parlato in questo video, delle partizioni, in più video, e abbiamo gestito le cose, allora, partizioni, diciamo che partizione a destra o a sinistra, non ci interessa più di tanto, ci interessa in funzione del fatto di voler allargare o diminuire un disco, quindi che non ci sia una partizione che ci dà fastidio in una determinata posizione, noi abbiamo lavorato con le partizioni, questo video è quello che secondo me ti può interessare di più, come spostare una partizione, 218, come e perché spostare una partizione, e quello ti può dare un'idea del destra o sinistra, e come eventualmente regolarti, anche se noi siamo partiti prima con i video, precedenti, però questa è quella che specifica, specifica proprio sul movimento della partizione, allora, poi, grazie per l'incentivo ai mi piace, sì ragazzi, grazie infinite per i mi piace, che per noi sono molto, molto importanti, Mauro, scegli il colore, mi suggeriva, infatti grazie Mauro, dunque, poi, siamo a Luca, adesso devo andare, Daniele, ci vediamo questa sera in amici in conferenza, ok, ciao Luca, non sarei già andato, ormai, Isabella, stava scritto, prima Daniele, probabilmente mi diceva il discorso del tutto, del colore, quando stavamo cercando, ragazzi, il nostro prof Daniele sarà in conferenza questa sera alle 21.30, bravo Aldo, Rosario, ciao Daniele, questa sera anche Aldo, ok, saluto Antonio, saluto Marcel, e ci vediamo allora questa sera in conferenza, agli amici che partecipano alla conferenza, in diretta, mercoledì prossimo, alle 18, come sempre, e tutti i giorni, sapete che qualcosa di nuovo c'è sul canale, e basta, quindi vi aspetto tutti i giorni sul canale, grazie della presenza, grazie dei mi piace, per noi importantissimi, grazie per super chat, super sticker, e abbonamenti, che sono un sostegno indispensabile per noi, e quindi grazie infinite, e a presto, ci vediamo presto, allora vado sulla schermata, mi permette di gestire il saluto, eccolo qua, ciao ragazzi, buona serata, buona cena, e a più tardi. e a più tardi.